Il rilancio dei comitati di quartiere di San Cataldo al centro di una mozione presentata in Consiglio Comunale a fine anno dai consiglieri Vincenzo Naro di Tradizione Futuro e Massimo Emma del gruppo Consigliare Le Spighe. Questo Consiglio Comunale, si legge attraverso le proprie commissioni di lavoro, può essere d'impulso per la realizzazione di un regolamento che dia un indirizzo univoco ai comitati di quartiere, ad esempio sugli organismi direttivi, sulle modalità di nomina o elezione, sull'eventuale forma giuridica associativa, sull'eventuale statuto tipo. Si parla infatti di una mappatura territoriale e topografica, considerando numero di abitanti, tessuto sociale urbano o ancora esigenze comuni. A tal proposito, infatti, nella mozione si propone di proseguire un lavoro già iniziato in passato dalla Commissione Consigliare di Riferimento nel Biennio 2012-2014 e poi si propone la possibile concessione gratuita in caso di necessità di un locale comunale, come la Sala Borsellino, per l'eventuale donanza dei comitati, attraverso una calendarizzazione. Infine si fa riferimento anche ad un'altra questione, cioè la costituzione di una consulta dei comitati di quartiere come interlocutore diretto con l'amministrazione, facendo pervenire suggerimenti o richieste.